Da 11 mesi giace semiaffondato nel porto di Fano, costituendo intralcio alla navigazione e fornendo una cartolina poco decorosa del tratto di Darsena su Viale Adriatico. Ora il relitto del peschereccio Nettuno, inabissatosi lo scorso agosto, sta per essere rimosso. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco Luca Serfilippi in dialogo con la Capitaneria di Porto e le ditte incaricate di un'operazione che costerà 85.000 euro. Operazione che partirà dalla messa in sicurezza dell'area e dalle verifiche con i sommozzatori. È prevista la chiusura al transito di Viale Adriatico per i quattro giorni pensati per completare l'opera di rimozione. Un'opera che partirà lunedì 22 luglio e punta a concludersi entro giovedì 25, periodo di quattro giorni in cui due autogru solleveranno il relitto del Nettuno per portarlo in asse di galleggiamento tale da essere rimorchiato e trascinato in secca.